Eccolo qua, anche Candidmenter deve prendere posto. Curiosamente tre cavalli sono a tre quota fissa sul campo e sono appunto i tre citati Zermatt, State of Play e Candidmenter. Ci siamo, si aprono le gabbie, partiti in questo momento, cavalli della quarta corsa. Con una certa decisione, Keylinse prova subito a far partenza e a portarsi in vantaggio per giocarsela davanti. In seconda posizione rimane State of Play affiancato all'esterno a Candidmenter, Zermatt, che invece si è sistemato in quarta posizione dietro al gruppetto di testa. E poi in ultima posizione Mariscos. Con i cavalli che sono già a tre quarti della piegata opposta di pista All Weather, a distanza quella dei 1500 metri, sempre in vantaggio Keylinse nei confronti di State of Play. Terza corsia per Candidmenter, poi Zermatt sempre in quarta posizione, top weight e poi in quinta troviamo Mariscos. Metà curva, nessuna variazione di rilievo, sempre Keylinse con la giuba bianca e azzurra in vantaggio nei confronti di Candidmenter che galoppa per corsie più esterne. Poi in terza posizione c'è la giuba rosa e verde di State of Play. Zermatt che ha trovato un ottimo varco all'interno cercando di filtrare, ancora Mariscos in fondo al gruppo, con Candidmenter che sceglie di andare proprio sullo steccato a posto. Poi all'interno trova spazio Zermatt che prova a produrre lo sforzo, in questo momento in vantaggio proprio Zermatt. Con Candidmenter che prova a lanciarsi all'inseguimento spendendo comunque tanto perché è andato sullo steccato a posto. Gli altri che sono ormai lontani dalla testa con Zermatt che è davanti, tende a fermarsi, allora c'è il pericolo rappresentato da Candidmenter ma Zermatt è in assoluta evidenza. Vediamo nel tratto conclusivo, gestione per lui. Candidmenter secondo posto, per il terzo invece risalito Keylinse. Marcello Giordani in sella per il training di Vincenzo Di Napoli, i colori di Daniele Anile. 1 al primo posto, 3 al secondo, 4 al terzo. Da Capanelle per la quarta è tutto, non prima di aver ricordato che per Zermatt era la vittoria. Numero 5 in carriera da Capanelle è tutto. Grazie. Grazie.